buonasera a tutti e benvenuti al recap sul dax con l'analisi ciclica evoluta allora oggi che cosa è successo di bello di che cosa parliamo prima di tutto come al solito nelle prime ore della giornata abbiamo avuto gap up finta a ribasso ripartenza rialzo e poi di nuovo varie finte quindi difficilino da tradare ci interessava poco ci interessava un ritracciamento per poi valutare un valido long ok per cui che cosa abbiamo fatto quando si è creato uno swing corretto a un certo punto abbiamo visto se poteva essere violato il discorso che però più passava il tempo trascorreva tanto tempo e andavamo oltre la potenziale chiusura del terzo t meno 3 che potrebbe persino star chiudendo qui oppure potrebbe avere chiuso qui dobbiamo ancora vedere perché i simpatici del dax hanno fatto un bel più minimo a 11.439 e 11.439 e questo mi puzza quindi il tempo iniziato a passare troppo quando poi abbiamo avuto la violazione dello swing non siamo entrati perché perché già sul quarto t meno 3 si rischia di dover andare short per la chiusura del t meno uno di cui vi parlavo per cui cosa è successo fosse entrato long avrei fatto una candela verde una ok una di nuovo verde avrei detto vai si sta salendo e poi rossa rossa tra l'altro abbastanza pesantuccia perché non si vede tanto da qua ma se diamo una dimensione decente al grafico quella per il trading intraday vedrete che dopo che ho avuto la violazione dei 11.499 e sono arrivato qua a 524 ho appena iniziato a fare 25 punti ritrovami subito sotto a 481 quando sono entrato appunto a 499 è vero che non è tantissimo di sotto però non è bello non piace anche perché è una bella candela rossa per cui una verde mi dà coraggio una seconda mi piace ancora di più ritorniamo a provare a superare di qualche cosa appunto questa facciamo un top comunque pochi punti sopra perché 544 abbiamo fatto 45 tic se avessimo preso da la violazione a massimo quindi non gli avremmo fatti comunque ma ne avremmo fatti magari 35 successivamente candela boom con di nuovo discesa forte discesa sarebbe stato un trade potenzialmente rischiosino e difficile da digerire avremmo dovuto valutare se rimanere in overnight no grazie la scelta di non operare oggi esattamente come diceva gan si è rivelata utile anche soltanto per un discorso di coronario per cui abbiamo atteso un momento valido per un altro swing non è arrivato non abbiamo operato molto molto semplice non prendo meriti se non faccio operazioni non invento long o short che non possono essere confermati dalle persone che mi dedicano più tempo dagli amici trader che sento su whatsapp piuttosto che nelle chat dove magari facciamo anche gli scemi o altro ok però quando si tratta di ciclica non si scherza per cui se vede un'occasione ghiotta mi ci tuffo se non vedo un'occasione ghiotta perché preferisco aspettare un alto swing sinceramente non ho voglia di rischiare più di perdere dei soldi e di rimanere in chiusura in overnight che di fare altro anche perché del domando non c'è certezza quindi il grosso problema se si rimane in overnight quando ci può essere una chiusura di t-1 ecco non è piacevolissimo se poi ci si mette anche a guardare i future e sono quasi sulla parità di nuovo altri 4 punti in meno e niente assolutamente niente comunque si rischia magari poi il giorno dopo di fare delle analisi non obiettive per cui siamo sempre in attesa della nostra chiusura di metà settimanale quando ci sarà e valuteremo da farsi ricordiamoci soltanto che continuiamo a essere in golden cross sopra la nostra livello superiore della cumo che non siamo scesi di un centimillimetro neanche da ieri e che quindi la tendenza siamo entrati in tendenza e ok non abbiamo guadagnato ma abbiamo di nuovo fatto tante considerazioni sul mercato e sui movimenti che si possono fare e quindi abbiamo fatto tanta formazione quando si passa del tempo con una persona che anche se non fa trading continua a raccontare come si sta muovendo il mercato penso che possa essere una cosa estremamente utile per il semplice fatto che anche se non si guadagna in termini di soldi si guadagna in termini di esperienza e quella fa tanto perché viste determinate cose se ne possono valutare tante altre quando rimaniamo scottati da una figura o dall'altra ci rimane impressa e ci rimane impressa in eterno per sempre quando faremo trading per cui appena la riconosceremo capiremo se stiamo facendo un trading in maniera corretta oppure no o se il gioco come quest'oggi non valeva assolutamente la candela per cui vediamo dove ci sveglieremo domani mattina e faremo tutte le considerazioni del caso ricordiamoci che è possibile che siamo arrivati solo ed esclusivamente a un quinto t-3 inverso e anche questo è un dato estremamente importante da ricordarci quando può partire infatti un t-1 in extremis? magari inverso buona sera da tutti e buon riposo